Siamo stati fra i primi a ipotizzare una sospensione dei brevetti. Sospendere in un periodo di guerra come quello che stiamo vivendo è sensato, ma è chiaro che serve un accordo generale. Nel frattempo questa è una delle vie che possono aiutare ad aumentare la produzione dei vaccini, anche se prima di queste potrebbe esserci quella della produzione per conto terzi, che peraltro già è stata fatta ad esempio con la Sanofi per Pfizer alla fine di dicembre. Si tratta di diverse strade da percorrere, probabilmente una sospensione è qualcosa a cui si può lavorare come una possibilità in più per avere una maggior produzione di vaccini e soprattutto aiutare anche altri paesi.